Ragazzi da poco, oggi voi vieni a mettere una testa, stai lavorando la lingua e intanto si trova un'emozza, un'emozza Per questo motivo, tene tanti difetti Ovviamente lag, a volte non caricano le partite Cosa sono i difetti, i due difetti Poi altri difetti, no Bug, i bug Poi basta Non è che ci sono altri difetti Ti pego, vai in modo, no Ok Ora, adesso vieni a lavorare a tutti i fenomeni Vediamo un'emozza Ok 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 Sì, che grande! ...dove... Im so overpowered! Qu'esti che la balla vuoi pure? Qu'esti che la balla vuoi? Qu'esti che la balla vuoi? C'è il tuo tempo? che Sì, 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 sì. Sì. I'm so... Are you serious? Stari, stari, stari I don't know Stari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.